Salve a tutti voi, il 28 aprile scorso si è svolta in tutto il mondo, organizzata dall'Organizzazione Internazionale per il Lavoro, la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. È stato presentato il rapporto sugli infortuni sul lavoro, ma soprattutto sulle malattie professionali, vi presentiamo un breve video su questo. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ILO, lancia un appello a favore di una campagna internazionale per contrastare il crescente numero di malattie legate al lavoro. che causano la morte di oltre 2 milioni di persone ogni anno. La vita umana è questo il prezzo finale pagato a causa delle malattie professionali. Queste malattie impoveriscono i lavoratori e le loro famiglie e hanno ripercussioni su comunità intere che perdono i propri lavoratori più produttivi. Le malattie professionali riducono la produttività delle imprese e contribuiscono ad aumentare i costi sanitari dello Stato. Inoltre, laddove la protezione sociale è debole o assente, molti lavoratori e le loro famiglie non hanno le cure e il sostegno necessari. È da sottolineare l'importanza della prevenzione per affrontare le malattie professionali, strumento più efficace e meno costoso delle cure e della riabilitazione. Il 28 aprile il tema degli infortuni sul lavoro è stato ricordato anche in piazza San Pietro. In questo momento speciale desidero elevare una preghiera per le numerose vittime causate dal tragico crollo di una fabbrica in Bangladesh. Esprimo la mia solidarietà e profonda vicinanza alle famiglie che piangano i loro cari e rivolgo dal profondo del cuore un forte appello affinché sia sempre tuttelata la dignità e la sicurezza del lavoratore. Bene, adesso veniamo al tema specifico di questa puntata che è come uscire dalla crisi dell'edilizia che negli ultimi anni ha perso quasi la metà dei propri occupati. Le aziende e i sindacati stanno riflettendo su questo. Vi presentiamo i contenuti di un recentissimo convegno. La grande crisi dei multinational primer americani che ha scatenato la crisi mondiale è partita proprio da questa alleanza perversa e opaca tra l'immobiliare e la finanza e che ha portato a quelle conseguenze che noi oggi vediamo nel territorio in cui il territorio viene usato come asset per sostenere i prodotti finanziari. Da qui capiamo il meccanismo che è stato utilizzato in questi anni. In questa economia che altri, come sempre, ha definito un'economia del debito ovvero impegnando le nostre risorse in attività che dovranno prendere. Questo ha funzionato fino a cinque anni fa. Questo tipo di operazione che l'industria immobiliare metteva in atto ma non dimentichiamoci anche poi i piccoli risparmiatori perché quelle responsabilità sono di tanti, di tutti noi, di tutta la nostra società. E c'è il piccolo risparmiatore che in un modello economico come il nostro basato sulla valorizzazione immobiliare ha sempre identificato il bene immobiliare come bene di investimento privilegiato. Il mattone è la vera sicurezza. E quindi i piccoli risparmiatori sono partiti anche loro in questa logica del debito e si sono indebitati a fare mutui perché sapevano che attraverso questo tipo di investimento avrebbero poi ricavato degli utili negli anni successivi. Questo meccanismo sapremmo bene si è bloccato. Da una parte ci sono le imprese che hanno chiesto finanziamenti per produrre ulteriori insediamenti che non riescono a rientrare con le banche e hanno un patrimonio immobiliare bloccato. Quante grumi ci sono in giro per le nostre campagne? Quanti cartelli vendesi in giro per tutto il territorio? Le banche oggi sono proprietarie di una fetta grossissima del patrimonio immobiliare italiano. Vado a memoria, Argos Beth ha calcolato che ci siano almeno 150.000 abitazioni sotto sequestro. E' un patrimonio che sta andato letteralmente in allora. Allora, cosa significa cambiare modello? Significa cambiare questo meccanismo che sta alla base della crisi attuale. ovvero cambiare la modalità attraverso la quale in Italia si è prodotta una ipervalorizzazione dell'immobiliare e attualmente si è assistito a uno sprofondamento di questi valori. Se noi continuiamo a seguire questo tipo di itinerario, questo tipo di logica, di valorizzazione economica, peggioriamo la nostra condizione economica. Che è una condizione che è derivata da una aberrazione nella quale siamo caduti, un'aberrazione del liberismo. Ovvero abbiamo prodotto molto più edificato di quanto servisse e regolare come l'angelo mendicativo degli economisti è arrivato il martello della logica della domanda e dell'offerta che è una regola basilare del liberismo. Quando c'è troppo offerta i prezzi cavano. E quindi ci troviamo con il patrimonio svalutato con delle imprese che non riescono più a produrle oggi. Perché essendoci un'offerta talmente alta sul mercato è ovvio che le imprese sono ferme. Perché nessuno chiede più quel tipo di prodotto se non delle fasce particolari che sono quelle dell'emergenza abitativa, del social housing, eccetera, eccetera, su cui bisogna ragionare con grande, enorme attenzione. E quindi bisogna cambiarlo questo meccanismo. Perché altrimenti non salviamo le imprese. Cioè non mettiamo in circolazione quelle quote di plusvalette che le attività economiche devono produrre e distribuire. Le manteniamo concentrate in alcune mani e non le distribuiamo in giro per il territorio. La ricerca è la cura del territorio, impiegare dei finanziamenti per trasformare l'incuria che attualmente possessione i nostri territori. Trovate risoluzioni che riconvertano l'industria edilizia, la postino sul settore del riuso del patrimonio abitativo già costruito e quindi nella raccoglianificazione del suo patrimonio in chiave energetica, in chiave antisismica. Nel periodo 2007-2012 le ore lavorate in cassa edile a Bologna nelle cassa edili segnano un meno 40% con un calo degli addetti che si aggira attorno a un meno 42%. I termini numerici vuol dire che prima della crisi, quindi nel 2007, circolavano, transitavano su base annua circa 20.000 edili all'anno ed oggi ne circolano né transitano quindi all'incirca 11-12.000 e oltre a un calo degli addetti un numero inferiore di imprese iscritti che segna un meno 25%. Oltre a questo, nel settore, il ricorso alla cassa integrazione nel periodo 2009-2012 è stato rilevantissimo, tanto che c'è stato un incremento del 198%. è inoltre superato il paradosso attuale per cui da una parte ci sarebbe una forte richiesta potenziale del bene casa ormai inaccessibile oltre a questo